Il digitale terrestre è la tv che cambia. Con il digitale terrestre devi aggiornare spesso la lista dei canali. E se non lo faccio? Se non lo fai, molti canali televisivi potrebbero sparire dalla tua televisione. E come si fa? Cerca il tasto menu nel telecomando del decoder oppure in quello della tv se il decoder è integrato. All'interno del menu seleziona la voce impostazioni o installazione. Poi clicca ok sulla scritta sintonizzazione automatica. Sintonizzazione, scansione e ricerca automatica dei canali sono la stessa cosa. Lascia che il decoder ricerchi tutti i canali fino alla fine del processo. Muoviti insieme al digitale terrestre. Aggiorna spesso la lista dei canali.